Ciao a tutti, oggi prepareremo gli gnocchi con crema di gorgonzola, specche e noci. Il tempo di preparazione della ricetta è di 20 minuti circa. Gli ingredienti sono grigli di noci, spec a pezzetti, gorgonzola, latte, gnocchi di patate e olio. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale grigli di noci e li facciamo tritare per 3 secondi a velocità 5. Mettere da parte. Senza lavare il boccale mettere l'olio e lo spec. Ed azionare il bimbi per 5 minuti, 120 gradi, velocità soft. Aggiungere il latte, il gorgonzola e cuocere per 5 minuti. 100 gradi, velocità soft. La crema è pronta, trasferirle in una ciotola capiente e cuocere gli gnocchi in abbondante acqua salata, scolarli e mantecarli con la crema di gorgonzola e le gheriglie di noci. Gnocchi con crema di gorgonzola, spec e noci. Grazie e alla prossima ricetta! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!